Dacia Spring elettrica a 9.500 euro. Per noi è un'occasione straordinaria per ricucire una ferita che abbiamo nella città di Sondrio da più di 40 anni. Un recupero e una riqualificazione, quelli che porteranno alla realizzazione di Monte Salute, finalizzati a migliorare le condizioni della qualità della vita, soprattutto dei più fragili, con lo sviluppo di nuovi servizi sociosanitari e sociali e la realizzazione di spazi dedicati ai bisogni formativi. Il primo cittadino del capoluogo ha illustrato oggi a Milano i dettagli dell'operazione che interesserà la zona. Un'area di 53.000 metri quadri che è collocata e adagiata su un balcone naturale al di sopra la città di Sondrio, dalla quale si gode la vista da Valtellina, veramente una vista ampia e interessante. Monte Salute, come ha detto, sorgerà negli spazi un tempo dell'ex ospedale psichiatrico. È già edificata con 16 fabbricati, quindi i nostri interventi saranno di pulizia delle superfettazioni e di rigenerazione completa dei fabbricati dell'area, compreso un parco di 35.000 metri quadri che è collocato all'interno. Non avremo consumo di suolo, quindi avremo rigenerazione dei fabbricati, portandoli ad essere energeticamente performanti come oggi è richiesto e all'interno integreremo un po' tutte le funzioni che il bando prevedeva. La strategia messa a punto si propone di portare benefici a più categorie di persone, innanzitutto a chi ha diverse disabilità e competenze, poi ad anziani, famiglie e care giver familiari e professionali, quindi a professionisti provenienti da altre regioni in cerca di casa per uno o più anni per ragioni lavorative. Punta inoltre a offrire soluzioni per padri e madri soli con necessità di ricostruire la propria vita, per giovani in formazione post-diploma o che necessitano di supporto per iniziare la propria attività lavorativa. Dei 15 milioni di euro previsti, il progetto prevede la destinazione di 13.933.000 euro ad azioni materiali e di 1.067.000 euro ad immateriali. Tra le prime figurano polo sociosanitario e servizi integrati con componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali finalizzate a ricomporre filiere disperse. Per il co-housing vi saranno appartamenti di piccole dimensioni, privi di barriere architettoniche e la disponibilità di spazi comuni per favorire relazioni e cooperazioni. L'ostello sarà una struttura ricettiva low cost per turismo di breve durata. Sarà anche possibile sede di un piccolo museo biblioteca archivio storico gestito in collaborazione con l'albergo etico per inserimento lavorativo dei soggetti fragili. Per il polo scolastico l'istituto sarà presumibilmente operativo dall'anno 2024-2025. Per il parco è invece prevista la rigenerazione complessiva con realizzazione di aree parco giochi inclusivo, zona coltivazione e giardino botanico. Infine, per quello che riguarda la chiesetta e gli edifici minori, sono previste la rigenerazione della cappella dell'ex ospedale psichiatrico e la ristrutturazione di piccoli fabbricati per realizzazione e servizi. Ora avviene il bello, dovremo calare a terra i nostri progetti, portare questa narrazione che per ora racconta quello che dovremmo fare, portarla nel concreto e attivarla.